Amiche e amici, benvenuti. Benvenuti in questo nostro spazio musicale, in questo nostro salotto nel quale vogliamo accogliervi con la nostra musica. Sulla piattaforma digitale Vincerò e anche su Telepace, che ci offre l'opportunità di arrivare a voi nelle vostre case. Ascolteremo quest'oggi il pianoforte del maestro Andrea Bacchetti, il maestro genovese Andrea Bacchetti. Tutti voi lo conoscete, è un grandissimo pianista, musicista, che ci offrirà un importante concerto. Il clavicembolo ben temperato di Johann Sebastian Bach è un'opera splendida, è un'opera basilare di tutta la musica, di tutti i tempi. Naturalmente lo sappiamo, originariamente scritto per clavicembolo, appunto, viene proposto in questo concerto nell'esecuzione pianistica del maestro Bacchetti. Non vogliamo rovinare questo momento con le nostre parole, vogliamo lasciarvi a questa musica. Non capita tutti i giorni di poter ascoltare integralmente parte, e questa sera ascolteremo uno dei volumi di questa grande opera, all'interno dello stesso concerto, ma siamo sicuri di farvi un bel regalo. A tutti voi, buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.